Buongiorno da Etg Marche e bentrovati a questa nuova edizione del nostro telegiornale come di consueto in contemporanea streaming sul nostro sito internet etvmarche.it, la nostra pagina facebook, la nostra app di etv. In primo piano la notizia con cui si conclude questo 2022 della morte del papa emerito Benedetto XVI Josef Ratzinger scomparso all'età di 95 anni, il 265esimo papa della chiesa cattolica dal 19 aprile del 2005 al 28 di febbraio del 2013. Le sue condizioni però si erano aggravate con l'avanzare dell'età. Papa Francesco aveva invitato a pregare per lui, si era recato al monastero Mater Ecclesie dove appunto Benedetto XVI viveva dal 2013 per salutarlo. Ha rinunciato al ministero il 28 febbraio del 2013 ed è stato il pontefice più longevo della storia, oltre ad essere uno dei pochi a rinunciare per l'appunto al pontificato. Tre sono state le visite nelle Marche. Per due volte nel giro di un anno ad Ancona e Loreto, 11 settembre del 2011, arrivò al porto di Ancona al termine del congresso eucaristico nazionale nell'area Fincantieri, celebrò la santa messa di fronte a più di centomila fedeli, successivamente pranzò con i vescovi e con alcuni rappresentanti degli operai dell'Antonio Merloni, azienda di Fabriano all'epoca le prese con un'avvertenza occupazionale e poi il 4 ottobre del 2012 tornò a Loreto dove era già stato nel 2007 alla Gorà dei Giovani, in questo caso davanti alla Basilica della Santa Casa per celebrare appunto messa in occasione del cinquantesimo anniversario della visita di Giovanni XXIII. E' arrivato il pensiero di Monsignor Nazareno Marconi della Diocesi di Macerata, siamo grati al Signore, ha scritto in una nota per il dono di Papa Benedetto XVI prima come grande teologo, poi come grande significativo Papa. Con i suoi ultimi dieci anni come Papa Emerito ha continuato ad insegnare alla Chiesa che la preghiera non è una cosa secondaria ma fondamentale per la vita e la missione della Chiesa. Il pensiero anche del Presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, guida spirituale e grandissimo filosofo. Questa è la notizia del giorno chiaramente di carattere internazionale e mondiale il Papa Emerito Benedetto XVI. Oggi 31 di dicembre ci si appresta a salutare il 2022 con i comuni, le varie piazze che si riempiranno a poche ore dalla fine dell'anno per festeggiare anche l'arrivo del 2023. In questo caso abbiamo fatto un sondaggio per capire come festeggeranno i marchigiani l'addio al 2022 e poi l'arrivo del 2023. Le prenotazioni nei ristoranti ci sono ma alla fine la maggioranza dei marchigiani preferisce passare l'ultimo dell'anno in famiglia o a casa di amici. Si porta qualcosa per mangiare tutti insieme o si sceglie un menù da sporto. A cosa fate a capodanno? Stiamo con i parenti, quindi tra amici è un capodanno semplicissimo. Menù? Ma fatto da noi, ognuno prepara qualcosa, lenticchie, un po' di pasta, un po' di carne, vino e spumante. Tra amici? Niente di grosso. Quanti sarete? Cinque. E che si mangerà? Qual è il menù? Ci avete già pensato? Sì, lasagne, poi le lenticchie, non mancano. A casa con gli amici e poi in piazza. Quest'anno casa. Abbiamo il piccolino e perché ormai le esigenze sono un po' cambiate. Siamo in famiglia con i parenti, in una casa in campagna, in libertà e tranquillità. Il menù? Il menù ognuno porta qualcosa ma non mancheranno ovviamente lenticchie, non mancherà un po' di carne al forno, lasagne, menù casalingo, molto artigianale. No, andremo in una festa, in un ristorante. Quindi il menù come sarà? Il tipico dei ristoranti a capodanno, quindi non può mancare la lenticchia, il panettone, per il resto sinceramente non lo so. Cena a casa e poi ci muoviamo con amici, sì. Quindi vedrete un po' anche magari qualche piazza, qualche evento all'aperto? Ci proviamo, ci proviamo, speriamo nel bel tempo. A casa di un amico nostro. Che cosa mangerete? Mangiamo, ognuno porta qualcosa. Lasagne, lenticchie, dolce, antipasti, tutto fatto da noi. Noi, dato che abbiamo un bimbo, è comodo stare a casa, quindi staremo a casa. C'è il cuginetto, un po' di amici, cosa così intima, insomma. E chi cucina? Cosa preparerete? No, prendiamo da sport, il menù pesce, insomma un antipastino con l'insalata di pesce, poi cannelloni. A casa e in famiglia? Quanti sarete? Otto persone. E cosa si mangerà? Facciamo ognuno qualcosa e portiamo ognuno una cosa da casa, quello che c'è. Si va sulla tradizione, cotechino e lenticchia? Poi dopo l'uva alla fine e così. Non da tradizione in realtà il meteo perché così come lo è stato il Natale, anche questo capodanno sarà l'insegna del bel tempo ma anche delle temperature calde al di sopra, chiaramente della media del periodo. 17-18 gradi invece dei canonici 10 per la temperatura massima, 8-9 gradi per la minima invece dei 4-5 solitamente registrati in questo periodo. Sono questi i dati della città di Ancona ma è così praticamente in tutta la regione. Insomma sarà un weekend di capodanno decisamente caldo, possiamo quasi lasciare a casa guanti e cappelli e perché no decidere di festeggiare in una delle piazze marchigiane che propongono eventi e concerti. Le temperature sono decisamente al di sopra della media climatologica di circa 7-8 gradi per quanto riguarda le massime e circa 5-6 gradi per quanto riguarda le minime. Queste temperature sono dovute a due fattori, diciamo il primo e il più importante è quello dell'alta pressione che comunque porta un'aria di tipo più caldo, di origine africana. Poi in questi giorni particolari si sono attivate delle correnti da sud-ovest di Garbino che tendono a riscaldare ancora un altro polo di temperature. E per i prossimi giorni? La situazione è caratterizzata appunto dalla presenza di una vasta area di alta pressione di origine africana che staziona su tutto il nostro territorio. Ci fa compagnia già da diversi giorni e continuerà a farci compagnia anche fino alla fine dell'anno e all'inizio dei primi giorni del nuovo anno. Per cui avremo una situazione poco evolutiva, con cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso, transito di qualche sistema nuvoloso ma senza precipitazioni associate. Brutte notizie invece per chi voleva passare qualche giorno sulla neve per tornare in pista con gli sci ai piedi occorrerà pazientare ancora un po'. La neve non è attesa in quanto non sono previste perturbazioni per cui quella poca che c'è sulle cime più alte dell'Appennino via via andrà sciogliendosi e nuova neve per ora non è prevista. Piazze in fermento pronte a riempirsi, questo è il programma in tutte le città, in tantissime città, capologhi di provincia, Dancona, Pesaro, passando per Macerata, Fermo e Dascoli, spettacoli all'aperto, musica, balli e soprattutto i botti. Allora vale anche quest'anno il decalogo per proteggere anche i nostri amici animali. Teniamo gli animali il più lontano possibile dai festeggiamenti e dai luoghi in cui i petardi vengono esplosi. Non lasciamoli soli, stiamo loro vicini mostrandoci tranquilli e cercando di distrarli. Non lasciamoli in giardino, teniamo in caso in un luogo protetto gli animali che abitualmente vivono fuori per scongiurare il pericolo di fuga. Teniamo alto il volume di radio o televisione chiudendo le finestre e le persiane. Lasciamo che si rifugino dove preferiscono, anche se si tratta di un luogo che normalmente è loro vietato. Durante le passeggiate teniamoli al guinzaglio evitando anche di liberarli nelle aree per gli animali per evitare fughe dettate dalla paura. Facciamo visitare l'animale da un veterinario comportamentalista affinché valuti la possibilità di una terapia di supporto. Evitiamo soluzioni fai da te somministrando tranquillanti, alcuni sono addirittura controindicati e fanno aumentare lo stato fobico. Organizziamo una gita fuori porta per trascorrere il capodanno in luoghi lontani dai centri urbani e dai rumori forti e improvvisi. Chiediamo al nostro comune un'ordinanza contro i botti e sensibilizziamo l'opinione pubblica su quanto questi inutili rumori possano essere dannosi per gli animali domestici e selvatici. Chiudiamo parlando di sport invece con l'ultima partita del 2022 nel campionato di Serie A di palla canestro in questo caso con la sconfitta per la VL Pesaro in quel di Reggio Emilia in casa del fanalino di coda. Il finale di 95 a 76 per i reggiani che partono bene e ritrovano il proprio centro Hopkins dopo lo stop con Brescia. Pesaro che restituisce con la stessa moneta questo avvio perché anche se sotto le planci oltre a Mazzola manca anche Kravic c'è Cetam che infila ben tre triple nella prima frazione partita che prosegue lenta nel punteggio nei primi 5 minuti per poi volare negli altri 15 all'intervallo lungo 42 a 39. Nel secondo tempo Reggio prova a dare e continua e spallate alla partita dopo Cincarini e Riouvers le prestazioni importanti sono anche di Buroianazze oltre ad uno sfavillante ultimo quarto di Vitali. Pesaro dopo un buon primo tempo si impantana soprattutto dall'arco non trovando il solito contributo da Rachman e quindi 95 a 76 per Reggio Emilia sul VL Pesaro. Noi siamo in chiusura vi ricordiamo che come di consueto le notizie le trovate pubblicate sul nostro sito tvmarche.it sulla nostra pagina facebook di ETV Marche. Grazie ovviamente per l'attenzione l'augurio di un buon ultimo giorno di questo 2022. Arrivederci.